Che cos'è quella cosa che rende Matteo Salvini un personaggio politico così tanto difficile da analizzare? Sarò sincero con voi, a primo impatto potrebbe essere una risposta, la mia, molto semplice, ma appena inizieremo ad analizzarlo meglio, vedete che ci saranno tanti dettagli che neanche vi sarete aspettati, e fidatevi, farà moltissimo la differenza. Con questo, sigla! Sei su Fink & Radar, il podcast in ricerca, ma in ricerca di se stesso. Matteo Salvini è letteralmente l'emblema del populismo moderno, in particolar modo nel caso di Matteo Salvini del populismo di destra, il populismo nazionale per così dire, e il populismo all'epoca contemporanea sta creando un sacco di problemi. Ma per capire meglio un attimo tutti questi problemi, tutte queste difficili, difficili movimenti che si stanno venendo a creare all'interno della nostra epoca, bisogna un attimo andare più nel dettaglio, perché, ve l'ho detto, Matteo Salvini, la prima risposta che potremmo dare in merito alla sua difficoltà di analisi, al suo difficile comprendimento al perché effettivamente lui stia causando così tanti problemi, nel scenario politico attuale, ecco, ha tante varie risposte, con tante varie sfaccettature, ma la prima cosa che dovremmo andare ad analizzare effettivamente è che cos'è questo populismo, che tanto dibattiamo, che tanto argomentiamo e che tanto mettiamo nel discorso politico, ma che poi effettivamente non sappiamo effettivamente che cos'è. Quindi, prima di partire, ecco, vi leggo da Wikipedia che cosa significa populismo, per poi partire effettivamente con la riflessione. Per populismo, dall'inglese populism, traduzione dal russo narodnitskiewsko, si intende genericamente un atteggiamento e una prassi politica che mira a rappresentare il popolo e le grandi masse esaltandone valori, desideri, frustrazioni e sentimenti collettivi o popolari. A primo impatto, ecco, il populismo sembrerebbe l'emblema della democrazia. Infatti, c'è un contatto con il popolo, c'è un contatto con i valori, c'è un contatto con i problemi, no? Reali del sistema politico dove stiamo vivendo. Ma, effettivamente, ragazzi, non vi sembra strano che populismo non sia un sinonimo? A livello, diciamo, etimologico, no? Di democrazia, no, non lo è. Ed è una cosa un pochino strana. E infatti, effettivamente, il populismo non è un amico della democrazia. Anzi, è proprio tutto il contrario. È un modus operandi per parlare più facilmente al popolo, ma che nasconde all'interno delle sue viscere delle cose veramente orribili, che adesso andremo ad analizzare meglio. Il populismo è, di per sé, a mio parere, l'antidemocrazia. L'antidemocrazia fatta a ricetta, no? A ricetta politica, a ricetta politica da utilizzare con qualsiasi tipo di governo. Aristotele criticava tantissimo la democrazia, ad esempio, perché aveva proprio paura che questi figuri, che queste figure appunto rappresentative a livello politico diventassero effettivamente un problema gigantesco e che non dessero una giusta direzione a tutto quanto il conglomerato politico dove stiamo vivendo noi adesso. Aristotele, infatti, era un grandissimo critico della democrazia e lui pensava principalmente che la monarchia e in particolar modo l'aristocrazia avrebbero portato una buona risoluzione della situazione politica dell'epoca. E se andiamo a vedere, chiaramente distanziandoci totalmente dall'idea aristotelica in merito alla politica, perché è veramente antica e con un bel po' di polvere addosso, vediamo che la democrazia però sta avendo dei problemi giganteschi proprio in contatto con questo populismo, perché cercare di parlare ai popoli non significa cercare di parlare ai cuori delle persone, significa parlare alle menti dei cittadini. Quando noi parliamo di democrazia, parliamo di una politica, di una realtà che è basata sulla riflessione, sul ragionamento, sullo spostamento ideologico, non fatto perché pensiamo che gli immigrati sono qualcosa di cattivo, o perché pensiamo che molto banalmente l'economia, non lo so, funzioni in maniera semplice, veloce, così tanto per dire, ma la democrazia si basa sulla nostra coscienza, su un diritto fondamentale che è stato creato nell'illuminismo, di cui parleremo effettivamente dopo, ma in generale si basa sulla fiducia che tutti quanti noi, umani, abbiamo la capacità di pensare, di ragionare in merito alle cose, di sapere dove andare e di dove direzionare appunto il nostro mirino verso il futuro e in un qualche modo cercare di, tra una decisione e un'altra, di portare avanti il sistema politico e il governo generalmente in una direzione più benevola che malevola. Toccando il cuore dei cittadini, non facciamo una cosa buona. Toccando il cuore dei cittadini, il cittadino è sensibile. Il cittadino è sensibile e la mente viene lasciata al buio, perché la nostra mente non può essere qualcosa di poco allenato. E se noi mettiamo, diciamo, i presupposti per non allenarlo, utilizzando appunto la parola per ispirare molti popolari e emozioni forti all'interno delle persone, non faremo altro che spegnerlo quel cervello, non faremo altro che rendere i grandi discorsi ideali, filosofici, politici, economici del nostro paese un semplice ambaradan da piazzetta. Un semplice meme che si può far circolare online. E non mi stupisce, infatti, che figure, proprio come Matteo Salvini, hanno fatto dell'immagine pubblica, del legame con il popolo, a livello non tanto mentale ma emotivo, il loro marco di fabbrica. Il loro marco di fabbrica perché cercano in tutti i modi di legarsi in un qualche modo ai sentimenti, alla vita privata delle persone. E questo, ragazzi, è un problema. È un problema perché quella voce che noi definiamo pluralista, no? In un sistema democratico vincente, dove ci sono tante idee che vengono messe un attimo in contraddizione tra loro, vengono discusse, vengono argomentate, vengono dibattute. Alla fine, all'interno del partito, di questi figuri qua, non diventano altro che un mero... una mera idea unita. Un'idea unica è, per così dire, utilizzerò una parola forte, perdonatemi ma, mi sembra il caso, dittatoriale. dittatoriale nel senso che nessuno ragiona con la propria testa. Tutti quanti seguono un pensiero unico che riguarda solo i cuori delle persone, non il ragionamento. Io non ho mai sentito, per dirla molto banalmente, una persona che votasse sinceramente un politico per delle idee riflettute, per delle idee ben posate, ben pensate. Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto se, e solo se, le persone che votavano effettivamente i grandi, le grandi figure politiche, votavano cose che non erano diciamo legate a una forma di populismo. Tutte invece le altre persone che andavano a votare l'uno o l'altro, lo votavano non per idee, ma perché gli hanno ispirato qualcosa. Gli hanno ispirato emotivamente delle emozioni forti. E questo è un problema, ragazzi. Questo è un problema gravissimo, che sta alla base dei nostri atteggiamenti verso la politica, che sta alla base della nostra educazione alla politica. un unico corpus pensante, dove il cervello e il politico non è un modo per creare una buona democrazia. La storia non può essere resa frammentaria e utilizzati per fini veramente malevoli. Malevoli. Perché, ragazzi, una persona che mette e dice che non lo so, il giorno prima dice sì, sì, sono pro alla cannabis e il giorno dopo dice no, ragazzi, la cannabis veramente fa schifo. Tralasciando il fatto che una persona chiaramente può cambiare le sue idee. Non mi sembra che lo, non mi sembra però che queste figure politiche lo facciano effettivamente con con condizioni di causa, basandosi su degli studi. Perché se veramente andassimo a studiare pragmaticamente i studi che andiamo a toccare con atto, beh, vedremo che la cannabis o vedremo che altri argomenti politici molto più complessi chiaramente della cannabis danno tutto il contrario di quello che dicono queste figure politiche. E quindi utilizzare i dati, la storia, l'informazione solo per fini politici è per dare ragione al proprio molino e per dare acqua al proprio molino è sbagliato. Non c'è nessuno in queste situazioni che controbatte contro questi elettori e questa cosa mi dà fastidio perché una buona politica rappresentativa critica persino chi elegge critica persino chi vede in politica come il miglior figure politico io non posso stare appresso parlo per me ma in realtà è un io riferito un pochino più in generale ok una persona non può stare appresso a a un singolo figuro politico e dire vabbè dai va bene va bene che tu dici queste cose e lo accetto non può esserci una cosa del genere perché tutti quanti ragioniamo e pensiamo in maniera diversa persino il vicino più vicino a te è la persona più distante da te da un punto di vista prettamente filosofico quindi com'è che possiamo dire che a livello politico siamo tutti uguali quando leggemo qualcuno no una buona politica dovrebbe essere fatta basandoci sul fatto che noi critichiamo persino chi più pensiamo che sia adatto a quel loro politico e questo è questa cosa non seguire questo percetto significa andarsi a distruggere in un clima politico veramente estremista dove persino il diritto alla vita e il diritto dell'uomo diventa discutibile una un politico che diventa l'unica voce all'interno di un partito o un politico che fa della sua immagine della sua figura l'unico mezzo per comunicare bene le cose e fa della sua figura l'unica possibilità possibile ed immaginabile davanti a tutto quanto all'altro contesto sociale è è un problema è un problema per il diritto il diritto dell'uomo perché persino gli argomenti come questi le frammentazioni che vengono svolte da questi persino gli argomenti come questi le frammentazioni che vengono svolte da i Matteo Salvini di turno servono proprio per dare una narrazione della storia diversa da quella che veramente è e permette a questi figuri di creare un iper scetticismo culturale che viene utilizzato poi per dominare per darsi ragione per negare qualsiasi tipo di contrario e quante volte ragazzi anche in argomenti complessi come la guerra in Ucraina la guerra tra Israele e Palestina adesso proprio adesso con la situazione in Yemen stiamo vedendo la storia utilizzata e frammentata e decontestualizzata in mille modi diversi Platone combatteva proprio contro questa cosa perché nella politica del tutto vale tutto dove si trovava Platone dove va bene va bene dire che l'acqua è uguale al fuoco e il fuoco è uguale all'acqua beh ecco Platone combatteva proprio per dire che l'acqua è uguale all'acqua e il fuoco è uguale al fuoco per dire che ci sono delle cose che noi non possiamo negoziare che noi non possiamo mettere nel gioco politico per dire che una cosa è così una cosa è così perché il ruolo di mettere in gioco diritti mettere in gioco storie la storia in generale mettere in gioco i pensieri di alcuni autori della storia non solo contemporanea ma moderna e anche antica non è possibile non è negoziabile non è in alcun modo qualcosa che noi possiamo fare esistono delle realtà dove non ci sono solo bianchi e solo neri non ci sono solo guelfi neri e guelfi bianchi o guelfi e ghibellini ok ma ci sono realtà dove noi fondiamo la nostra la nostra vita la nostra libertà le nostre possibilità non possiamo permettere a discorsi populisti nazionalisti che si diano di destra e di sinistra ragazzi perché esiste sia il populismo di destra che il populismo di sinistra di semplificare il reale in tale modo non possiamo permetterlo ci sono delle cose che noi non possiamo negoziare perché queste cose toccano dal profondo la possibilità di argomentare la possibilità di pensare in merito alle cose fino a 300 anni fa un uomo una persona in molti casi non poteva esprimere la propria in merito a ciò che pensava e io non penso che nessuno di noi voglia arrivare a quel punto io non penso che nessuno di dove voglia arrivare a quel punto la libertà umana è ancora in primo luogo ancora prima una libertà di pensiero la possibilità di discernere il reale tramite la propria testa senza però figure politiche che non si senza però figure politiche che non si prendono le proprie responsabilità perché ragazzi di responsabilità parliamo sfatare la storia toccare i cuori delle persone e non le menti le riflessioni fare spettacolo non è proprio della politica le idee fondative servono per la nostra identità per la nostra cultura non possiamo vivere in un conflitto politico ideologico dove veramente andiamo ad intaccare quei tipi di diritti costituzionali non possiamo permettercelo non solo diritti costituzionali ma diritti umani internazionali non possiamo quindi accettare per esempio questa cosa non possiamo farlo e se qualcuno qua vuole andare contro a questo deve essere fatto con la maggior responsabilità di ciò che facciamo dobbiamo essere responsabili nella vita politica andare a votare e scegliere di votare ciò che nel bene o nel male ci sembra più semplice perché ve lo dico da ragazzo di 18 anni molti miei coetani non vanno a votare non hanno fiducia nella politica perché vedono delle figure politiche che non le rappresentano e questo è un problema non solo chiaramente educativo ma anche perché tutte le persone intorno a loro non votano non si mettono nel problema e se vogliamo veramente cambiare queste cose parlo per le persone che non votano già ma parlo anche per le persone che votano adesso dobbiamo dire dobbiamo fare dei voti dobbiamo votare ed eleggere consapevolmente non voglio che tra cinque anni in politica abbiamo l'ennesimo che semplifica la storia semplifica il reale vorrei qualcuno che veramente rappresenti in un qualche modo i valori politici filosofici che tanto esponiamo in questo podcast quindi concludendo non viviamo per simboli teniamo la nostra mente accesa cerchiamo di farlo ogni giorno e cerchiamo di renderci proattivi in questo gigantesco clima politico diffidate da tutti coloro che vi pongono soluzioni semplici alle cose diffidate da tutti quei politici che dicono il problema è quello il problema è quest'altro e non dicono ma però forse o al massimo ancora meglio non dicono forse mi potrei sbagliare con questo per le persone che sono in live vi ricordo di rimanere in live per le persone che invece stanno ascoltando adesso il podcast indifferita ecco vi lascio un video che probabilmente sarà sopra la mia faccia dove parlo appunto insieme a un ospite di politica di consumismo di tanti argomenti vari abbiamo analizzato veramente bene questa cosa quindi ve lo lascio qua insieme ad Alessandro Porto è veramente molto interessante quindi cliccatelo con questo ci salutiamo e alla prossima ciao